Ben ritrovati e ben ritrovati, buon inizio di weekend, iscrivetevi al canale, attivate la campagna notifiche, lasciate un bel like, inizia un fine settimana molto interessante a livello calcistico che già ieri ha aperto i battenti con il successo del Napoli in casa sul Como e per cui siamo chiamati a dare una risposta immediata domani contro il Cagliari, oggi alle 13 parlerà Tiago Motta, sono curioso di capire che tipo di probabile formazione potrebbe andare in scena perché stiamo parlando comunque di una gara da non sottolotare minimamente, è vero ci sono state le fatiche di Champions perché abbiamo profuso uno sforzo non indifferente contro mille avversità, però diciamo che in linea generale mi aspetto che Tiago dia fiducia soprattutto a coloro che hanno dimostrato di stare bene, di fornire delle performance davvero pimpanti negli ultimi appuntamenti, poi ci vuole grande rispetto per l'avversario che proviene da un bel successo esterno in casa del Parma, comunque il Cagliari ha un'identità come tutte le squadre di Davide Nicola, concede molto e dovremmo essere bravi a sfruttare dei spazi appunto, farlo con tecnica, farlo con anche entusiasmo, domani è fondamentale che l'Allianz Stadium dia una grossa spinta a questi giocatori che comunque si stanno applicando molto, che stanno cercando di fare qualcosa di diverso e che stanno ottenendo anche risultati importanti. Chiaro, ci manca il successo su Mediempoli, nel percorso che stiamo facendo è normale, se vogliamo anche aver pareggiato con Roma e Napoli in Champions, fin qui fortunatamente bottino pieno, quindi per essere a posto con la nostra coscienza, prima che inizi questa noiosissima seconda sosta stagionale, dobbiamo fare il nostro, avere la meglio sul Cagliari e quindi poi magari Tiago in conferenza oggi darà anche qualche indicazione su qualche esperimento per sostituire Gleison Bremer, perché per quanto riguarda Gatti, Calulu, ovviamente Danilo e Cabal sono loro, il pacchetto centrale è formato da questi calciatori, qualcuno mi ha chiesto, ma secondo te Savona potrebbe fare il centrale? Savona ha intelligenza calcistica, ma credo che a destra sia una soluzione, anche perché è una coperta molto corta, cioè se sposti Danilo e Calulu tra i centrali, a destra deve giocare Savona, poi puoi giocare sicuramente anche a destra con Danilo e centrale Calulu, viceversa, anche se io non so quale sia il vostro punto di vista, ma Pierino centrale, secondo me a maggior ragione, post questo maledetto infortunio di Bremer diventerà praticamente un intoccabile là, e quindi bisogna fare dei ragionamenti, bisogna fare dei ragionamenti anche in chiave mercato, cercare di capire il profilo giusto, perché magari ora parti in questo lungo cammino senza Bremer fino a gennaio, cioè fino a gennaio o fino al mercato, perché senza Bremer tutta la stagione, e capisci che magari ti serve più un terzino anziché un centrale, possono davvero emergere tantissime dinamiche, io credo che la Juventus in maniera saggia e lucida abbia fatto ciò che doveva fare, cioè non intervenire subito, anche perché il mercato vi svincolate, a parte la suggestione Sergio Ramos non è che proponga granché, per comprendere l'evoluzione di questa squadra e quali siano le necessità della stessa. Anche là, la punta, ok, io sono il primo a dire, secondo me ci vuole un vice Vlaovic, ma magari nella testa di Tiago ci vuole più un esterno offensivo nelle rotazioni, uno che possa alternarsi con il Diz e che quindi possa essere di livello superiore rispetto al tragitto che sta percorrendo Bangula. Insomma, ci sono tante cose che possono mutare, di sicuro ciò che non muta è la nostra identità, perché mai, come in questa stagione, con questo allenatore soprattutto, i risultati dovranno arrivare attraverso i meccanismi collettivi, non c'è l'io, c'è il noi, e attraverso anche il noi si dovrà sostituire adeguatamente Gleison Bremer. Mi sembra un concetto abbastanza banale, ma che sta emergendo, anzi, si sta fortificando di partita in partita, perché onestamente alzi la mano chi pensava che in termini di identità la Juventus, inizio ottobre, potesse avere già determinate nozioni. Ecco, io no, lo auspicavo, ma poi vederlo in termini di atto pratico e non solo teorico è qualcosa che mi lascia ottimista per il proseguo, non solo di stagione, perché, è chiaro, io sono il primo che vorrebbe vincere, ma devo anche capire che se si fa un certo tipo di percorso, ciò che conta è l'espressione che ti possa portare il miglior tempo possibile a ottenere determinati risultati, quindi già costruire con costrutto, con intelligenza, con risultati a livello stilistico, è una base di partenza e di pregio delle fatture. Poi, siamo la Juventus, club titolato d'Italia, una più importante al mondo, è normale che qua si debba vincere, fine. Parliamo di Pogba, perché ieri è arrivata questa indiscrezione che poi ho trovato pieno e conferme nell'arco delle ore dell'Inghilterra, ovvero squalifica ridotta per Paul, che da marzo potrà tornare a giocare impegni ufficiali, come ben sapete, il mio punto di vista è che non lo farà con la Juventus, si troverà una soluzione. Molti mi hanno detto, ma se la Juventus avesse voluto, vi avrebbe già risolto il contratto in passato, ve l'ho spiegato più volte, lo ribalisco anche oggi, era ed è principalmente un discorso legato al decreto crescita. La Juventus sa, sapeva perfettamente, che portando al minimo federale lo stipendio di Pogba, non avrebbe avuto alcun tipo di impatto, perché se parliamo di 2.000 euro di stipendio, parliamo di un fatturato a Juventus infinitamente superiore, potete immaginare che sia qualcosa dell'impatto zero, perché se comunque tu vai a fare una risoluzione prima dei due anni del decreto crescita, insomma, non voglio stare qui a fare il commercialista, anche perché non lo sono, però vi garantisco che la Juventus ha sempre preso tempo, attendendo che poi ci fosse la parola fine a questa squalifica in un senso o nell'altro, specialmente, soprattutto, per un discorso fiscale. E quindi io fatico, capisco, no, la ragione, coloro mi ha detto, ma Pogba se si dovesse allenare bene, Pogba quando tornerà a giocare, saranno due e anni e mezzo, due stagioni e mezza di inattività. La prima del suo ritorno alla Juventus, dove tra la mancata operazione e altro, è saltata interamente la stagione, la seconda a causa della squalifica, dopo Udinese, Juve, più tutta metà stagione, anzi un po' di più, quindi voi siete inguaribili ottimisti, io invidio il vostro ottimismo, l'ottimismo rimango più pragmatico e continuo a pensare che alla fine della fiera si troverà una soluzione per fare in modo che la Juventus ora, cioè ora, in senso appurato il termine ultimo della squalifica, metta la parola fine a questa storia. Per parola fine intendo salutare anticipatamente Pogba, rispetto alla sua scadenza naturale del contratto, che è il 2026. Poi, ho avuto a aprire questa parentesi, perché in tanti mi avete chiesto, ma qual è il tuo punto di vista? Ed è questo, io umanamente sono felice per Pol, la dichiarazione che ieri ha rilasciato attraverso la sua agenzia, mi riempie il cuore, ha detto finalmente l'incubo è finito, non vedo l'ora che arriva il giorno in cui potrò tornare a inseguire i miei sogni, ero certo di aver mai violato consapevolmente le norme dell'Agenzia Mondiale Anti-Doping. E su questo non ho il ben che minimo dubbio, perché trovo che Pogba sia stato profondamente ingenuo, ma che dietro non ci fosse un disegno da parte sua. Poi è stato mal consigliato negli anni, ha avuto anche vicende personali, familiari più grandi di lui, e quindi io in questo non entro. e spero solo, come ho detto ieri, che Pol possa ritrovare la serenità, può tornare a giocare da marzo, e non è poco, è chiaro che per riaccendere tutta la sua macchina, considerando lo storico gli infortuni, gli ultimi periodi, secondo me ci vuole un lavoro disumano, cioè metterti lì e davvero riaccendere, e capire anche magari quale potrebbe essere la tua destinazione per poterlo fare. il calcio europeo è un calcio molto competitivo, io al di là dei discorsi che vi ho fatto prima, si immagino poi anche il calcio di Tiago Motta, dove vai a tutta, ma non in partita, cioè dal lunedì al venerdì, spingi sempre, spingi sempre, sono ritmi che questi secondo me Pogba non potrebbe mai leggere nella vita, Pogba 2.0, però magari ci sono altre piazze, sicuramente meno blasonate, ma che potrebbero consentirti, quantomeno di fare quello per cui sei nato, cioè giocare a calcio, Pogba è nato per giocare a calcio.